c'era mangaka che mi cercava grazie piccola scrivete a mangaka che sarò nelle marche così con simone con simone si è vero mangaka ti stavo guardando prima vengo nelle marche vengo nelle marche non ci credevi che ti guardavo con simo vengo nelle marche mangaka e dove ricerchi sti vediamoci 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 ok dimmi che il giorno in cui viene io e simone saremo tra sirolo in umana dovremmo venire a marcelli sì più o meno di più o meno lì e dovremmo venire sabato domenica e duradissimo se ne va io rimango ancora io volevo organizzare luca se ti non è che devi urlare perché distante non funziona così vediamoci a porto nuovo a porto nuovo l'organizziamo vediamoci 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 vediamoci